Come anticipato siamo a Parma per giocare a carta bianca. Carta bianca? Sì, ciao Valentina, sono Stefano Frungillo, poeta. Grazie mille, qual è la novità? Ho appena finito di leggere alcune mie poesie con un bellissimo pubblico, con un bellissimo riscontro, spero che abbia invaso di ispirazione mezza Parma. Un format innovativo dato non solo dalla poesia, ma anche da un pianista. Ciao Valentina, io sono Matteo Righetto. Grazie mille, qual è la novità? Allora, io ho accompagnato Stefano al pianoforte suonando brani miei, brani che ho preso dal mio ultimo album. E? Che ho improvvisato. Non ha affatto il bis, ma abbiamo giocato doppio. Ciao a tutti.